27 gennaio giornata della memoria Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te ad un nuovo appuntamento di Spazio Sostenibile in collaborazione con Raffaello Scuola lo spazio pensato per celebrare i giorni più significativi dell'anno oggi celebriamo il giorno della memoria un giorno importantissimo per tutti noi un giorno che non solo non ci deve far dimenticare il nostro passato ma su cui dobbiamo fondare il nostro futuro oggi creeremo proprio insieme quello che è stato deputato il simbolo della memoria il papavero rosso e durante il tutorial ti spiegherò perché questo fiore così bello è diventato proprio il simbolo della memoria e allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri papaveri ed ecco l'occorrente per il nostro bellissimo progetto di riciclo una bottiglietta da aperitivo dei contenitori delle uova io qua ne ho quattro ma dipende da quanti fiori vorrete fare voi delle forbici dello spago una bottiglia di acqua minerale di colore verde colori acrilici pistola per colla a caldo e relativa stecca e ci occorrerà anche del fil di ferro che fungerà da stelo dei nostri papaveri contenitore d'acqua e pennelli è il nostro fedele taglia balza cominciamo come prima cosa prendiamo la nostra bottiglietta e rimuoviamo perfettamente l'etichetta in un contenitore versiamo un pochino d'acqua e un po' di colore bianco acrilico e misceliamo ben bene prendiamo il nostro liquido e versiamolo nella bottiglietta e dipingiamone tutte le pareti ripuliamo la parte esterna facciamo questo lavoro finché l'acrilico non avrà preso ben bene tutta la bottiglia e facciamo asciugare nel frattempo prendiamo le nostre scatole delle uova con il taglia balza tagliamo per prima il cono che divide le uova e tagliamo a pelo senza andare troppo sotto quindi da ogni scatola ritagliamo la forma dell'uovo avremo queste tre curve e questa in più allora questa la taglieremo iniziamo a sfrangiare tutti i margini e a dare un garbo voilà prendiamo l'altro anche qui abbiamo questo e questo eliminiamo il resto eliminiamo il resto e sfrangiamo dopo aver fatto i quattro petali e averli sfrangiati ben bene prendiamo adesso il primo pezzo e tagliamolo a listarelle sottilissime fino ad avere una cosa così ed è adesso giunto il momento di dipingere e inizio a dipingere i papaveri uso il colore senza bagnarlo perché questa carta è molto suscettibile all'acqua quindi prendiamo il nero e tingiamo di nero il pezzetto che abbiamo tagliato a strisce questi sono i pezzi che occorrono per un papavero ripetete queste operazioni per ogni fiore che volete creare fatti tutti i petali dei fiori che abbiamo deciso di fare io ho deciso di fare tre fiori e una volta che sono asciutti li giriamo dall'altra parte e dipingiamo anche l'interno prendo pochissimo nero lo stendo qui sulla mia vaschettina dove ho stemperato il colore e lo allungo tantissimo proprio tanto deve essere vedete molto trasparente così prendo i petali e ne macchio così la parte centrale in alcuni punti di più in alcuni punti di meno rimanendo comunque molto trasparente così vedete prendo il colore giallo e così macchio la parte sommitale dei centrali che ho fatto prima mettiamo da parte ad asciugare e prendiamo la nostra bottiglia della nostra bottiglia ci servirà solamente questa parte presa questa parte della bottiglia facciamo striscioline un po' di più e quindi pieghiamo così un centimetro di plastica pieghiamolo molto bene ok a questo punto tagliamo uno e due creando proprio due linee oblique alla base ok così ve lo metto in controluce così si vede adesso prendiamo il nostro pezzettino di plastica e tagliamolo a frangine facciamo tante V sottili una e due la parte del bocciolo sbocciato per intenderci poi dividiamo a metà facciamone due di ogni pezzo vedete così per ogni fiore ne servono quattro barra cinque facciamo anche una foglia prendiamo un pezzo lungo e pieghiamolo a metà così quindi partiamo a fare prima un tondino e ritagliamolo via poi poi un altro tondino e tagliamolo poi un altro tondino fai uno screenshot o un farmi immagine copiale su un foglio di carta e dopo di che te le trasferisci sulla tua bottiglia e ti verrà semplicissimo a questo punto prendiamo il nostro spago e avvolgiamolo per venti volte attorno alle nostre dita venti volte se piccolo così da due millimetri mentre se più grande naturalmente avvolgetelo meno uno uno due tre quattro 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 quindi tagliamo e tagliamo anche un altro pezzettino perché il cattro quattro 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 Terremo fermo con un nodino. È arrivato il momento di montare i nostri papaveri. Useremo la colla a caldo, quindi attenti a non bruciarci le mani. Prendiamo un papavero e facciamo in modo di sovrapporre i petali gli uni agli altri in questa maniera, creando questa sorta di corolla. Quindi, prendiamo il primo, mettiamo un punto di colla e adagiamo il secondo petalo. Giriamo proprio attorno, facendo un giro tondo attorno al fiore, così. Viene fuori da solo, vedete? E voilà! Foggiate bene, aiutatevi con un paio di forbicine. Prendiamo uno dei nostri centrali, sporchiamolo tutto attorno e adagiamolo proprio nel centro del nostro papavero, così. Prendiamo il fil di ferro, prendiamo una pinza e facciamo una rotellina con il fil di ferro. Voilà! E schiacciamola ben bene. Mettiamola a T rispetto al nostro fiorellino e foriamo il cartone. Non dovrebbe essere troppo difficile forarlo. E fate passare in mezzo il nostro pistillo, che sporcheremo di colla a caldo nella parte così inferiore. E che copriremo, attenti a non bruciarvi, completamente di colla a caldo. Facciamo così con tutti i papaveri. Adesso prendiamo i nostri papaveri, mettiamoli alla rovescia, sporchiamoli con un pochino di colla e incolliamo i pezzetti di plastica tutto attorno. Ditemi se non sembra vero! Continuiamo anche con gli altri. E adesso un filo di colla sullo stelo, facciamo raffreddare un attimo e facciamo aderire la foglia. Fatti i nostri tre bellissimi papaveri, occupiamoci della bottiglietta che dovrà contenerli. Quindi prendiamo il nostro spago, diamo un punto di colla così in verticale, adagiamo lo spago e fissiamolo ben bene, voilà! E adesso punto di colla in orizzontale e iniziamo ad avvolgere. Attacchiamo il fiocchetto e inseriamo all'interno della nostra bottiglietta i nostri papaveri. Ed ecco qui il nostro vasetto, ora ditemi non è bellissimo? Vi lascio alle foto e noi ci rivediamo subito dopo. Visto che è carina la nostra composizione è proprio adatta, un giorno solenne come questo ne richiama l'essenza e ci ricorda sempre la libertà, la libertà individuale e la libertà degli altri. Quindi mi raccomando vivete il vostro spazio in libertà e che sia sempre uno spazio sostenibile per voi stessi e per gli altri. Con spazio sostenibile ci vedremo molto presto quindi iscriviti per non perdere i futuri appuntamenti e giù in infobox troverai tutti i link relativi a Raffaello Scuola su cui poter rivedere questo ed altri tantissimi contenuti educativi e creativi. Mi raccomando continuate a seguirmi su Arte per Te e su tutti gli altri miei social Facebook, Instagram, TikTok e noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!